Al centro congressi di Via Fermi, grazie ad un convegno proposto dall'Ordine degli Ingegneri di Vicenza con la collaborazione della Confartigianato Provinciale, si è tornati a parlare di tecniche e incentivi per il miglioramento antisismico degli edifici produttivi e residenziali. L'ultima riclassificazione del territorio nazionale in relazione al rischio sismico pone la quasi totalità del Vicentino in zona 3, non la più esposta come la zona 1, ma neppure la meno pericolosa come la zona 4. Interventi di prevenzione rapportati alle caratteristiche dell'edificio, se questo è esistente, sono sempre possibili e costano meno di quanto si pensi, anche perché godono oggi di detrazioni fiscali dal 50 all'85%, a seconda della tipologia di edificio e in forza di maggiorazioni che premiano l'ottenimento di riduzioni di rischio più elevate. Ma sentiamo il contributo dei relatori che abbiamo avvicinato, soprattutto per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente, visto che per gli edifici nuovi oggi ci sono adeguate norme tecniche di costruzione. Interventi che migliorino le condizioni di sicurezza dovrebbero essere normalmente programmati e non attuati sull'onda emotiva provocata dai terremoti. Innanzitutto l'attenzione dovrebbe rimanere sempre viva, a mio avviso, e non soltanto nell'immediatezza post terremoto, ma fare una programmazione che permetta anche dopo che la fase di emergenza sia attenuata, continuare a programmare tutta una serie di interventi che possono essere non soltanto di adeguamento, cioè che permettono di portare la costruzione a livello delle norme, ma anche di miglioramento, che comunque è un miglioramento rispetto alla situazione esistente, anche se non si arriva alle condizioni di norma. Questo permette di fare degli interventi con costi ragionevoli e comunque ridurre il rischio sismico di moltissime costruzioni. Il nostro patrimonio edilizio come sta? Il patrimonio edilizio sta così così, nel senso che soprattutto in quelle zone che sono state riclassificate da un punto di vista sismico, quindi la costruzione è stata eseguita con dei criteri che erano quelli di una classificazione precedente. La costruzione poi si ritrova in una zona che è stata riclassificata e quindi evidentemente il suo livello di rischio è aumentato notevolmente in virtù dell'aumento della pericolosità e di una vulnerabilità che a quel punto diventa elevata in quanto costruite con criteri relativi a zone non sismiche. Parliamo di edifici ad uso produttivo. È sempre possibile intervenire per metterli in sicurezza? È sempre possibile intervenire per metterli in sicurezza, ma prima di intervenire per metterli in sicurezza è essenziale capire il punto di partenza, cioè le condizioni di durabilità dell'edificio esistente. Riusciamo a dare, in base alla nostra esperienza, dei riferimenti di un ordine di grandezza di questi investimenti? Certo, se parliamo ad esempio semplicemente di connessioni, che sono quelle connessioni che permettono di non avere le perdite di appoggio di elementi strutturali rispetto ad altri, strutturali. Abbiamo anche dei valori molto limitati che possono essere fatti anche da un punto di vista di imprese medio-piccole, imprese quasi artigianali. Sono elementi che costano, nella nostra esperienza, dai 30 ai 40 euro al metro quadrato. L'importante è procedere con interventi che non modifichino l'apparato strutturale, non modifichino la distribuzione di rigidezza. E quindi, quando poi passiamo a controventi orizzontali o interventi sulle strutture verticali, i costi aumentano e arriviamo a valori che vanno anche oltre i 100 euro al metro quadrato. Se poi si interviene in fondazione, i valori aumentano ulteriormente. Ma non è obbligatorio per legge, l'importante è procedere ad un piano di miglioramento. L'importante è la salvaguardia delle persone, ma altrettanto importante è anche salvaguardare il valore del bene. Assolutamente, il valore del bene prodotto all'interno dell'edificio, il valore delle merci e dei materiali che vengono prodotti all'interno. Quindi delle persone, delle merci e dell'attività imprenditoriale. E dell'involucro. Assolutamente sì.